Poi c'è lei, l'intelligenza artificiale, quella ormai è proprio dappertutto, abbiamo parlato di CGPT ma c'è di più, se i social erano potenti una volta, adesso l'intelligenza artificiale è qualcosa di ancora molto di più, tant'è che oggi chi possiede, i foundation model si chiamano così, cioè la base, il software vero che fa funzionare, il motore che c'è dietro quel mondo, quindi dietro i vari CGPT per capirci, oggi è più potente degli stati, cioè già come sapete, vi ricordate ai tempi anche delle ultime elezioni, quelle precedenti statunitense, i social network erano più potenti dei presidenti degli stati uniti perché senza i social network non potevano essere eletti, no? E quindi immaginate cosa sta succedendo adesso, ovviamente io sto scrivendo un libro adesso, si chiama Cyber Humanism perché voglio che l'uomo sia al centro e spiego il perché è importante che l'uomo sia al centro, l'etica, tutta una serie di cose, ho fatto questi temi e spiego che cosa sta succedendo, ovviamente non ci sono solo le paure, l'intelligenza artificiale può essere pericolosa perché può essere in mano a pochi, finire in mano a pochi e di conseguenza fare cose in autonomia di cui né noi, nemmeno forse chi li ha costruiti, e lo hanno ammesso in alcuni casi anche loro, sanno cosa c'è dentro.